Grazie Cuneo, grazie per questa accoglienza che la città ha dato a Matteo Salvini, che la lega è per il messaggio forte e chiaro che Cuneo oggi lancia al Piemonte, la lega in Piemonte sta tornando e la lega in Piemonte sta per ritornare al posto dove gli compete, al governo di questa regione, ma prima di arrivarci dovremo fare la battaglia su questo referendum perché con questo referendum andiamo davanti non un'elezione ordinaria, perché quando ci sono delle elezioni ordinarie si può rimediare ai danni, l'abbiamo visto, nel 2014 è stato eletto Chiamparino, nel 2019 rimedieremo, a Cuneo abbiamo un sindaco di sinistra e l'anno prossimo probabilmente rimedieremo, ma quando si tocca la Costituzione si vanno a cambiare quelle che sono le regole democratiche, quelle che sono le regole del gioco, quello che è il futuro delle prossime generazioni e quindi è un voto su cui non si può sbagliare, è un voto su cui non si può essere disimpegnati, è un voto per cui tutti quanti dobbiamo darci da fare per convincere quanta più gente possibile ad andare a votare e votare no. Perché dobbiamo votare no? Dobbiamo votare no perché questa è una riforma che non fa nulla di quello che è propaganda Renzi, non è vero che ci sarà un taglio dei costi, il risparmio che avremo col taglio dei senatori sarà ampiamente superato dal doppio turno della legge elettorale dell'Italicum, andremo a risparmiare 50 milioni di euro all'anno e ce ne faranno spendere 350 milioni in più per il ballottaggio, quindi ci prendono per il naso. L'unica cosa che si taglia è la democrazia nel nostro Paese, l'unica cosa che con questa riforma si taglia è il nostro diritto a scegliere da chi essere rappresentati in Parlamento e guardate che il diritto di voto per cui si sono fatte guerre, rivoluzioni, per cui i popoli hanno lottato per secoli vale molto di più che il piatto di lenticchie che Renzi ci vuole dare con questo fiocchetto del risparmio, che se lo tenga pure, anche perché il risparmio in realtà non ci sarà. Questa è una riforma che vuole togliere sovranità, togliere sovranità alla gente, ai popoli, perché non ci permetterà di scegliere i nostri rappresentanti, togliere sovranità ai territori, perché con questa riforma le regioni diventeranno degli enti meramente amministrativi, le regioni non avranno più alcuna competenza legislativa. Quello per cui la Lega si batte da 30 anni verrà completamente accantonato, non avremo più alcuna prospettiva di riforma federale di questo Paese e badate bene che se competenze come la sanità le togliamo dalla regione e le portiamo a Roma, sapete che cosa succederà? Non succederà che il modello della sanità efficiente che abbiamo ad esempio in Lombardia verrà esportato in Calabria, ma molto più probabilmente facendo decidere lo Stato centrale e Roma, il modello Calabria sarà esportato anche qui a nord e le regioni dove le cose funzionano. Una ricorda di questo, che a mio avviso è il miglior spot per il no, lo trovate sul sito internet del Fatto Quotidiano. Dedicate 5 minuti per andarvi ad ascoltare la registrazione del Presidente della regione Campania, De Luca, che arringa 300 sindaci della sua regione. Li sentirete ridere di gusto parlando dei soldi che Renzi sta per dare alla campagna per buttarli nel cesso e sporperarli? Ma ricordatevi che le persone di cui ridono siete voi, perché se passa questa riforma, il furto di risorse dal nord verso lo Stato centrale potrà continuare indisturbato e noi questo non lo possiamo accettare. Noi questo non lo possiamo accettare. Essere padroni a casa nostra significa poter decidere nel nostro futuro, avvicinare le decisioni al territorio, ma soprattutto essere padroni dei nostri soldi. I frutti del lavoro, del sacrificio delle nostre genti, delle genti culesi e piemontesi, deve restare in Piemonte e deve essere amministrato dai piemontesi. Noi abbiamo quell'idea di riforma costituzionale, una riforma federalista che avvicini le decisioni ai territori e alla gente. Renzi invece vuole una riforma che porta il potere a Roma e non solo a Roma, lo porta a Bruxelles, perché questo è l'altro grande punto preoccupante di questa riforma. Ci tolgono la sovranità anche rispetto all'Unione Europea, tolgono la sovranità tutto il Paese perché scriveranno in Costituzione che l'Italia dall'Unione Europea non può più uscire. Quindi un domani un governo legittimamente eletto che magari avesse in mente delle politiche agricole diverse rispetto a quelle di questa Unione Europea che stanno affamando il nostro comparto agricolo, che avesse in mente una moneta diversa, un sistema di gestione dell'economia diverso, non potrebbe andare in Europa a contrattare se non prima modificando la Costituzione. E voi capite che questa è una limitazione che neanche uno Stato come la Grecia, che è tenuto per le balle dai creditori internazionali, ha dovuto accettare. Nemmeno in Grecia si sono spinti a scrivere in Costituzione che la Grecia non può uscire dall'Unione Europea. Quindi questo è un altro motivo fondamentale per votare no, perché no è un voto per la nostra sovranità, è un voto per la democrazia, è un voto per i popoli e io vi saluto mandando un forte abbraccio al territorio piemontese-cuneese colpito dalla Lulione, ai tanti amici della Valle Tanaro, della Valle Pò, della Valle Inferrotto, della Val Bormida. Io vengo in Alessandria, questa notte non abbiamo dormito perché il Tanaro stava esondando. Fortunatamente sembra che le cose si stiano tranquillizzando, oggi c'è il sole e lasciateci pensare che a portare il sole in Piemonte sia stata questa giornata di festa in Alessandria che soffierò tutto il nostro territorio per la mattina fino alla sera. Grazie a tutti voi, la lega c'è che è un uomo per sempre.